buongiorno oggi siamo in campagna e siamo con l'erex pocket arrivata a non vi dico lo schifo che c'era ho pulito tutto questi sono i programmi questo è il cestello pieno di melma opzioni mezzo carico esclusione l'entrifuga ok adesso procederemo con uno scarico ok m stiamo aggiustando anche il il rubinetto dell'acqua perché gocciola e lei si riempiva di acqua non 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 oggi in corso spie di lavaggio in corso migliori targatero funzionante ok possiamo spegnere molto delicatamente mi ricordo un po anche la zoppos ok ci vediamo con la pulizia del filtro l'importante è togliere la spina bene amici come vedete trattata da schifo ora il mio possesso però alla prossima